Benvenuti alla resegna stampa di oggi, buongiorno a tutti, oggi è venerdì 17 di giugno 2022 e questa è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che come sempre va in onda in diretta, lo ricordo, alle 7 del mattino puntuali tutte le mattine dal 2 via al sabato. Allora dicevamo oggi è venerdì 17, parentesi, la superstizione non deve esistere nella vita di un cristiano, quindi per coloro che si professano cristiani la superstizione non deve esistere, non c'entra, quindi per noi oggi è venerdì 17, come venerdì 13 e come tanti altri giorni. Sarà una bellissima giornata di sole e a proposito di sole andiamo subito a vedere in questa bella spiaggia marchigiana, questa mattina apriamo la nostra finestra sulla spiaggia di Numana, una delle spiagge più belle dell'Italia, d'Italia. E questa è un'immagine un po', come dire, come vedete abbiamo il sole contro rispetto alla telecamera fissa che inquadra questo tratto di spiaggia con tante palme, vedete tanti ombrelloni ancora chiusi ma con tanto traffico in mare perché vedete ci sono queste piccole imbarcazioni che penso siano sempre vongolari, stanno rientrando in porto. Ecco insomma questa è l'immagine che ci fa ben sperare per questa giornata con questo riflesso del sole stupendo, quest'aria, vedete questo cielo, non dico azzurro perché comunque vede ci sono anche un po' di nuvole eccetera, però niente di che. Infatti andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi, questo è il sito della protezione civile delle Marche, per oggi abbiamo un po' di nuvolosità ma anche un po' di pioggia, soprattutto isolati e brevi piovaschi nel pomeriggio ma relativamente alle zone appenniniche, quindi parliamo di montagna, va bene? Ecco le temperature sono in lieve diminuzione, quelle massime per la giornata di domani, il fine settimana sarà comunque variabile, vedete non c'è il sole pieno, avremo un po' di transito di nuvole medie stratificate. Per quanto riguarda invece le temperature ancora in lieve diminuzione nei valori massimi, mentre quelle della notte saranno stazionari, vediamo invece domenica, ecco domenica un bel cielo terzo per chi andrà al mare, che potrà andare al mare, avremo infatti una giornata serena o poco ruolosa, con ancora le temperature però questa volta minime in diminuzione, le massime invece aumenteranno. C'è un po' di vento invece al mattino ma comunque tutto sommato sarà una bella giornata di sole. Poi c'è l'alta pressione che garantirà condizioni stabili e soleggiate per gran parte della prossima settimana con temperature in graduale salita. Questo è quanto dovevamo per il tempo, che comunque in estate incide, anche perché insomma ci sono persone che vengono qua anche in vacanza, dunque investono dei soldi, spendono dei soldi e quindi è bene che soprattutto se decidono di stare al mare, ecco che il cielo ci assista anche dal punto di vista meteorologico. Adesso andiamo a vedere i giornali e partiamo dal resto del Carlino. Il resto del Carlino di oggi in apertura pubblica la fotonotizia dei contagi che sono in risalita, il Covid col quale ribadisco ancora una volta dobbiamo convivere, ormai questo è assodato, ma senza ansia, perché di ansia ne abbiamo accumulata già abbastanza in questi due anni e questi titoli non è che aiutino tantissimo, quindi spero che i colleghi capiscano una volta tanto che bisognerà cominciare anche a prendere le cose per il verso giusto, senza stare a farle tante paturnie. Comunque riesplodono i contagi, quasi il 50% in più rispetto alla settimana precedente, grazie a Dio nessuno muore o comunque quelli che muoiono, ahimè, insomma hanno tutte patologie e comunque diciamo che ecco la maggior parte delle volte si muore, sì, ma non per il Covid ma con il Covid. Ma di questo adesso ci fermiamo qua. Quello che dovevamo ecco dirvi è che comunque i contagi ancora ci sono. Ci sono persone che sono in isolamento, tante nelle Marche, soprattutto in Ascoli Piceno, ci sono tante persone in isolamento e si fanno la settimana a casa e poi ritornano in pista. Allora, invece, sulla questione delle cene gratis, cene di pesce gratis, o meglio sull'inchiesta Mystic River, nelle intercettazioni le debolezze del funzionario della regione arrestato per corruzione. Cene di pesce gratis, che passione. Poi la città di Pesaro, alle 5 di oggi pomeriggio saluterà la Freccia di Loreto. Chi è la Freccia di Loreto? Un ex campione di pallacanestro. Gagliardetto biancorosso sul cancello di casa, oggi al porto l'addio a Gurini, stella appunto indimenticata dei pesaresi. Poi c'è una notizia, sempre in apertura, in primo piano sul giornale di oggi. Qualcuno lo ricorderà, sicuramente, di quel giovane che è stato pestato dal branco alla rocca di Fano. Il processo è tutto però da rifare. Vedremo perché. Poi due croati si erano addormentati e col peschereccio finirono contro gli scogli assolti dal reato di naufragio. Poi la protesta invece dei volontari, accogliere i profughi ucraini è sempre più difficile perché ci si mette di mezzo, come al solito, la burocrazia. Poi missioni in Etiopia, a Ba Marcello, serata solidale per salvare i bambini africani. Sotto invece nubifragio, un nubifragio all'improvviso che ha mandato in tilt un paesino, tra l'altro tra i più belli dell'entroterra che abbiamo qui in provincia di Pesurbino, ovvero Borgo Pace e altri centri vicini. Un nubifragio, dicevo, all'improvviso. Guardate la fotografia, incredibile. Strade distrutte e paura. Un fiume di acqua per le vie di questi piccoli borghi. Poi lo sport repegia l'allenatore che è amato e odiato dai pesaresi perché a un certo punto, se non ricordo male, l'anno scorso se ne andò. Non mi ricordo bene esattamente come sono andate le cose. Comunque un nuovo coach per la VL repege in vantaggio. Oggi il Consiglio di Amministrazione della squadra, insomma, decide, della VL deciderà. Adesso andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesero. Allora, in apertura, la fotonotizia. Adesso sono libero di volare, dice, prima di morire, Federico Carboni, detto Mario, che è morto con il suicidio assistito. Ma l'apertura del Corriere di oggi è sulla Baia, la Baia Flaminia. Grandi eventi e pochi stalli. Per l'estate i parcheggi Serbatoio di Campo di Marte e di Viale Belgrado rischiano di non bastare. I residenti lamentano di non trovare posto. Bocciate le proposte di pedonalizzare l'area del food, cioè del cibo dove si mangia. Boomerang super bonus, rischio blocco invece per i cantieri. Sotto l'opposizione di Pesero, parliamo di politica, palasi costi sono triplicati per gli scarsi controlli. Mentre a Marotta il disperato appello di un padre, che leggeremo tra poco, che vuole proteggere la figlia perseguitata dall'ex fidanzato. Aiutate mia figlia, lui è fuori controllo, dice. Poi ancora da Pesero, crack fraudolento e l'ignaro mulettista diventa liquidatore. E adesso entriamo nelle pagine interne. Io ripartirei da questa notizia. Perché vista così so che sto toccando un tema e non voglio entrarci perché non è questo il contesto. Ma credo che per noi cattolici, anche per noi, insomma, è importante, e lo faremo attraverso le parole, secondo me, sagge, di Monsignor Spina, l'Arcivescovo di Ancona, che risponde a tono, come è giusto che sia, alla giornalista, alla collega, che fa domande su se sia giusto o meno dare la morte alle persone che comunque da molti anni soffrono. E so che qui, subito, anche tra voi telespettatori a casa, qualcuno dirà che senso ha vivere in questo modo, oppure altri che invece pochi forse diranno la vita è un dono e va rispettato fino alla fine, fino alla morte naturale. Ma di questo, ripeto, non entro io con la mia considerazione, ma lo faremo attraverso la risposta di Angelo Spina. E allora vediamola. Intanto la pagina che si occupa, sono due le pagine, sì, sono due. Io ho selezionato la numero 3, la pagina numero 3 dove ci sono, ecco, come vedete, questo per farvi capire un po' la linea del giornale, perché si capisce anche da questo, che linea ha il giornale. La linea del giornale è 2 a 1, ovvero azione cattolica che dice, o meglio, per bocca del leader Rizzi, io avrei fatto la stessa cosa. E capite che quando uno legge un titolo del genere capisce che già all'interno della Chiesa è un disastro. Perché? Perché non si può mettere una dichiarazione del genere. O meglio, se uno la fa, poi se ne assume le responsabilità. Però, in una situazione simile, dice, chiederei l'identico iter. E tant'è che l'attacco del pezzo di Andrea Maccarone è di questo tenore. Il mondo cattolico è diviso sul tema del suicidio assistito. Un argomento spinoso su cui sembra difficile trovare una sintesi. Ma il Presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, Arcidiocesi Ancona Osimo, Giuseppe Rizzi, esprime un parere netto, sebbene del tutto personale. Ecco, ci si para dietro al fatto che uno parla a titolo personale, però non è così. Perché è come se, purtroppo succede anche quando parla il Papa, dice, il Papa è il Papa, non può parlare più a titolo personale. Se uno ricopre un incarico, deve pensare che ricopre un incarico. Ok? E questo è un incarico importante, perché comunque rappresenta il mondo cattolico. Allora, andiamo a vedere queste due interviste tra scienza e fede, pro e contro, velocemente. Allora, tra chi è pro, abbiamo il Professor Tagliabracci del Comitato Etico, c'erano le quattro condizioni richieste, quindi la buttiamo sul burocratico, no? C'erano le condizioni, questo è così, questo è così, e quindi si può fare. Giustamente, invece, la risposta di Angelo Spina, arcivescovo di Ancona, dice, i suicidi sono una sconfitta per l'umanità. Aiutiamo la vita, non la morte, serve una società solidale. E tra le risposte, chiaramente, vi lascio la risposta di Tagliabracci sul Corriere di Oggi, e quindi, ecco, basta comprare il giornale e poi uno se la legge. Io invece vorrei un attimo soffermarmi, perché i titoli sono quelli che abbiamo visto e solitamente sono quelli che la gente legge velocemente, poi non approfondisce mai. Allora, approfondiamo un attimo e tiriamo giustamente l'acqua al nostro mulino, come cattolici. Le vicende personali e umane sono sempre dolorose, dice Angelo Spina, arcivescovo di Ancona, soprattutto quando si attraversa il calvario della sofferenza. Ma di fronte alla vita, noi dobbiamo avere un atteggiamento fermo. La vita è un dono e non può essere toccato né scalfito. Se si tocca il valore fondamentale della nostra esistenza, tutto il resto crolla. Fabio e Federico, perché c'è anche Fabio di Fermignano, lo ricordiamo, che lo ha preceduto qualche giorno fa, hanno portato una croce diventata negli anni sempre più pesante. Anche Antonio, terzo marchigiano, ad aver scelto la strada del suicidio medicalmente assistito, è il testimone di una vita che va oltre la sofferenza e chiede di morire. La risposta di Angelo Spina è questa, ma quando la morte viene provocata da soggetti esterni o dallo stesso malato, questa diventa una ferita per tutta l'umanità, perché è una vita che viene spenta volontariamente e non si spegne naturalmente. La morte va accettata, ma non deve essere somministrata. La vita è il valore più alto che noi abbiamo. Perché si arriva a chiedere di morire? La domanda, la risposta, succede in una società sempre più individualista. Di fronte ad una persona che soffre abbiamo bisogno di solidarietà, vicinanza e sostegno. Non bisogna lasciare le persone al proprio destino. Mi ha colpito una scritta sul muro di un ospedale. Noi ce la mettiamo tutta per guarire. Se non riusciamo a guarire, ci impegniamo a curare. E se non riusciamo a curare, ci impegniamo a consolare. Questa è la missione dell'umanità. La vita dunque, la domanda ancora, o l'affermazione del collega giornalista, la vita dunque oltre ogni sofferenza. Come dire, ma perché insistete tanto con questa vita a tutti i costi, quando vita non è? Qualcuno direbbe, no? Che vita è stare in modo vegetale lì o parlare solo attraverso una lavagna con gli occhi? Se si afferma, dice ancora l'arcivescovo di Ancona, se si afferma il principio che una persona può decidere il proprio futuro, questa non è una cultura della vita, ma è una cultura della morte. Durante il Covid ci sono stati medici che hanno sacrificato la propria vita per curare i malati. E' di questo che abbiamo bisogno, di una umanità che scommette sulla vita e non sulla morte, perché la vita è l'unico bene di cui non possiamo disporre secondo la nostra volontà. E Maria Teresa Bianciardi ancora dice, anche quando diventa insopportabile, come lo è stato per Fabio e Federico, come lo è per Antonio e chissà per quanti altri, la risposta e la conclusione dell'arcivescovo è la vita non può essere soppressa. Lo dobbiamo, la dobbiamo conservare così come ci è stata donata. Io aprirei una parentesi da Dio, che qui non leggo da qualche parte, ma c'è Dio dal concepimento alla morte naturale e di fronte a qualsiasi persona sofferente c'è bisogno di tanta solidarietà per far sentire che tutti lottiamo affinché quella vita sia vita e non morte. E quindi, ecco, ripeto, è un discorso che andrebbe affrontato non certo in una rassegna stampa, in un commento alla stampa del giorno, però è un modo anche, bisognerebbe un pochettino riflettere su questo aspetto, tenendo conto che non si parla più di vita eterna, che invece è l'argomento sul quale bisognerebbe insistere e tornare ad insistere, quelli che una volta i nostri vecchi chiamavano i nuovissimi, dieci anni di sofferenza, sì, ma rispetto all'eternità i dieci anni sono assolutamente nulla e Dio vuole solo che noi andiamo con Lui in Paradiso e vivere eternamente felici, come saranno sicuramente facendo in questo momento anche loro, perché comunque il loro calvario l'hanno fatto. Ma ripeto, mi fermo qua perché non è il momento e sono sicuro che molti di voi già staranno sbraitando. Allora, andiamo avanti con la rassegna stampa. Vediamo, qui invece c'è un fatto proprio terra terra, che però preoccupa e c'è comprensibilmente angoscia nel cuore di una famiglia intera e chissà quante altre intorno a questa famiglia che vivono veramente giorni difficili. Andiamo a vedere il giornale, la pagina della Valle del Cesano, mia figlia, mia figlia perseguitata dall'ex, lui è fuori controllo, quindi dice aiutate. C'è l'appello di un padre che dice abbiamo denunciato questa persona quattro volte, per favore non aspettiamo la tragedia. Naturalmente per salvaguardare la privacy, Jacopo Zuccari scrive questo articolo, mette soltanto le iniziali del padre, di questo padre disperato, che è un operaio specializzato, che non chiude più occhio da giorni. Insomma, ed è giusto così. Siamo però più o meno nella zona di Mondolfo, tant'è che il padre dice vogliamo aspettare un femminicidio nel comune di Mondolfo, spero di no, abbiamo già sporto quattro denunce, abbiamo trovato pezzi di frutta e fiori sul portone di casa di mia figlia, cos'altro dobbiamo aspettare? Ma non solo. racconta questo uomo, questo padre disperato, dice questo ex fidanzato di mia figlia, che ha un figlio di dieci anni, ha sfondato il portone del condominio in cui vive mia figlia, racconta angosciato il padre Amarotta, quindi è libero di entrare in questo palazzo, ha completamente imbrattato con lo spray i portoni di un appartamento, ha sfasciato le cassette delle lettere, ha bucato le gomme di un'auto, insomma mia figlia ha dovuto staccare il telefono, non sappiamo più come fare. Ecco, questo è l'appello disperato che noi abbiamo rilanciato attraverso la rassegna stampa, che comunque sappiamo essere un appuntamento molto seguito e di questo vi ringraziamo ogni mattina, ogni giorno qui su Fanotv. Quindi lo rilanciamo sperando che qualcuno che ha potere di agire in questo caso faccia quello che deve. Mentre di taglio basso, sempre Jacopo Zuccheri sulla pagina della Val Cesano, si occupa di un fatto che è accaduto a Marotta, una persona che è stata punta da un insetto, vede il braccio gonfiarsi, però chiama il 118, il 118 chiamate la guardia medica, ma la guardia medica di fatto non c'è, perché il servizio è stato chiuso. Dunque c'è ancora apprensione per quello che riguarda la gestione della guardia medica. Un residente mercoledì sera per una puntuale di insetto ha contattato il 118, poi ha raccontato tutto su Facebook e questa donna aveva bisogno di fare una puntura al braccio, insomma di medicarsi, perché aveva questa puntura di insetto con questa infiammazione, anzi no, non era per lei in realtà, diceva, era per mio fratello Massimo che ha 60 anni, erano passate le 8 di sera, insomma alla fine ha avuto questo disservizio. Mentre sulla pagina 11 del resto del Carlino, guardate questo articolo che risale a qualche tempo fa, cioè le fotografie risalgono a qualche tempo fa, lui è Simone Pasquino, il ragazzo cui fu rotto il naso che aveva cercato di difendere un amico, ebbene, il pestaggio alla rocca, siamo a Fano, il processo è adesso da rifare. Due ragazzi pesaresi vennero aggrediti in città dal branco, in primo grado il giudice ha calcolato le pene, però sulla base di una legge superata. Ecco perché, insomma, il processo è completamente da rifare. La Cassazione le ha dato ragione e ora la sentenza rischia di essere più pesante. Mentre il nubifraggio sconquassa le strade dell'entroterra, danni a Borgopace, Lamoli e Parchiule, all'incrocio tra il Meta e l'Auro, dove poi diventa Metauro, il corso d'acqua diventa un fiume in piena. Si contano adesso anche i danni. Guardate queste immagini che sono davvero molto forti, eloquenti. Guardate la furia dell'acqua fuori controllo. Queste situazioni evidenziano la gravità, dice Romina Pierantoni, dei cambiamenti climatici. Come rimediare? Solo evitando l'abbandono dell'area montana, si curerà meglio il territorio. Mentre sulle altre pagine, eccolo qua, il biodigestore, siamo sulla cronaca della pagina di Fano, sul biodigestore, l'amministratore delegato di Feronia, dice si va al rinnovo degli incentivi, nessun contrasto con il progetto di molti servizi, siamo un valore aggiunto. Mentre, sempre da Fano, la cronaca, in bicicletta, urta un'automobile, un ciclista, lievemente ferita, una ciclista, una donna, a Fenesi, di 38 anni, che è caduta a terra, riportando ferite dopo aver urtato un'auto intorno alle 15.15 di ieri. Sempre da Fano, Corriere Adriatico, mobilità sostenibile, analisi concluse, focus non sui mezzi, ma sulle persone. Assessore e tecnici di Sintagma presentano oggi le linee guida sul piano urbano del traffico. Mentre, per quanto riguarda invece quell'episodio che vi abbiamo raccontato sempre attraverso le colonne del Corriere Adriatico di ieri, dove un ristoratore è stato colpito in pieno sulla testa da un calcinaccio crollato da un palazzo, ebbene, per lui, collare e dieci giorni di convalescenza, colpito dai pezzi di un cornicione, è tornato a casa Massimo Belli e lui dice spero passi questo mal di testa. Da Fano, il resto del Carlino invece ciclabili, le ciclabili con il contagocce, i fanesi scelgono l'auto, i risultati dell'analisi finale dei dati sulla mobilità sostenibile evidenzano uno scarso utilizzo del trasporto pubblico locale, i tantissimi parcheggi blu che garantiscono il ricambio, ma anche molti posti liberi. Sul biodigestore, Ferronia pronta a partire, avanti anche senza gli incentivi. Poi un'intervista che Tiziana Petrelli questa mattina ha realizzato con Iannelli, così è rinato il volley made in Fano, è ormai past president, cioè ex presidente, della Virtus, ma continuerà ad essere un pilastro fondamentale della società che ha fatto la storia cittadina. Parliamo di appunto di Iannelli che ha 58 anni, fanese doc, manager affermato, insieme alla moglie Annalisa Cornacchini e ai tre figli forma una famiglia con la pallavolo nel sangue. Tutto inizia nell'agosto del 2014. sulla Darsena Borghese torniamo sul Corriere invece c'è la ditta ma il cantiere non può ancora partire, slitta l'ennesima data inaugurale e non si fanno nemmeno ipotesi sull'avvio. Marina dei Cesari invece i Cinque Stelle perché replica il concessionario? Il piano di rientro è decaduto lo dice la delibera dirigenziale, cioè dovrebbe essere qualcun altro a rispondere, non loro. Peschereccio naufregato, assolti i due marinai erano accusati di aver causato l'incidente avvenuto a largo di Fano. Andiamo a Pesaro invece, vecchio Palace triplicati i costi, Ricci se la prenda con se stesso per Baiocchi e Malandrino di Fratelli d'Italia il comune ha peccato di superficialità dopo la giudicazione della gara. L'azione di controllo sugli appalti deve proseguire durante tutto l'iter dei lavori mentre l'addio sempre a Pesaro a Gurini alle 17 alla chiesa del Porto centinaia di messaggi commossi per ricordare un simbolo del basket pesarese. E ancora da Pesaro lite tra vicine tra due donne tra vicine con lanci di vino ed escrementi finiscono in tribunale i burrascosi rapporti tra manager e vigilessa. Allora si parla in questo articolo di Benelli Luigi sì i liti di vicinato con lancio di vino rosso caffè e persino escrementi di cane un'antipatia reciproca tale da finire appunto in tribunale. Da Urbino invece il caso vescovo sapete il vescovo non ci sarà un nuovo vescovo dopo il pensionamento di Giovanni Tani ma a Urbino il vescovo sarà quello di Pesaro il nuovo vescovo di Pesaro. Il professor Luigi Bravi è uno sgomento constatare che non si nominerà un pastore pleno Iure. Insomma vabbè adesso tutti si buttano quando a dire la propria anche senza forse averne manco titoli ma comunque adesso non mi riferisco a lui in particolare per carità. La guardia medica non è attivata per i turisti ci sono gli ambulatori rischio siamo a Senigallia rischio causa al pronto soccorso il direttore dell'area vasta 2 Guidi dice secondo l'accordo visite possibili si sente male in acqua poi muore una turista uno shock sul lungomare da Vinci sono stati inutili i tentativi di rianimare questa donna che aveva 75 anni sempre da Senigallia Sciali marecola svolta sarà venduto aggiudicato per 715 mila euro per ora l'asta funziona all'ottavo tentativo si era partiti da 6 milioni di euro per le offerte c'è tempo fino al 22 di giugno poi addio all'hotel Eleonora chiude il ristorante Bano poi il bel gesto di un'avvocatessa che trova e restituisce un borsello e ancora shopping a scrocco al mercato fingono di provare abiti e poi si danno alla fuga due giovani sono state denunciate ma non solo borselli ritrovati questa la troverete sulla cronaca del resto del carino di oggi un bambino che trova anzi un bambino che va nella Repubblica di San Marino dice mi chiamo Benjamin ho rubato un ovetto di cioccolato dal suo negozio mi dispiace molto so di aver sbagliato ecco 10 euro spero mi possa perdonare cosa ha fatto ha rubato questo kinder poi tornato in Germania si è reso conto del gesto che non doveva fare e quindi cosa ha fatto ha scritto una lettera al tabaccaio gli ha mandato 10 euro gli ha chiesto scusa e anzi perdono è diverso allora Repesia piace ma non a tutti la prima scelta della VL non viene discussa come allenatore ma per il modo in cui vedete andò via nel frattempo il tempo stringe per il rinnovo dei contratti di Tambone Zanotti ormai in scadenza alla vigilar invece c'è il ritorno di Ferri ora bisogna scegliere i centrali parliamo di pallavolo ma ci torneremo tra un attimo intanto in casa Alma Juventus Fano Mosconi l'allenatore pochi errori e idee chiare ieri il nuovo allenatore del Fano ha visionato altri giovani da Tolentino due arrivi tra nonni capezzani tortelli padovani e strani strano mentre sotto pallavolo serie 1 femminile megabox firma Sirressi libera di stupire ancora parliamo di questa ragazza che è la nuova giocatrice della megabox libero del 1990 ha giocato in zona a Urbino nella Rubor Tiboni quando era già in serie A1 mentre la pallavolo di alto livello a Fano è targata Vigilar ingaggia Ferri Fano mi farà crescere dice lui la Vigilar Uffano ufficializza dunque il primo colpo nuovo di mercato scrive Beatrice Terenzi Stefano Ferri classe 2000 pesarese di nascita ex med store unit macerata e club Italia vestirà i colori virtussini nella prossima stagione di serie A3 per il sole d'alizio fanese trattasi di un arrivo importante è considerato che Ferri nonostante la giovanità gioca in serie A da qualche anno e due stagioni fa risultò uno dei migliori schiacciatori della categoria con questo mi fermo qui grazie per averci seguito appuntamento a questa sera ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci